Io sono Cristina, faccio parte dell'associazione Fata Morgana e ormai da molti anni che collaboriamo con la scuola di Loggio per progetti teatrali, progetti che si dilungano durante tutto l'anno scolastico e che prevedono proprio un lavoro diretto con i bambini, quindi non si arriva mai con un copione già predisposto, ma il lavoro è proprio creato completamente insieme ai bambini, sulle loro improvvisazioni, sui loro gusti, naturalmente con una proposta fatta dagli insegnanti sul tema di partenza. Quest'anno saranno gli alberi e quindi inizialmente abbiamo portato tantissimi libri, tanto materiale sugli alberi che i bambini hanno letto, guardato, indagato e pian piano è nato lo spettacolo. Quest'anno abbiamo avuto una nuova idea di lavorare inizialmente con gli insegnanti proponendo quello che ci pareva potesse essere la cosa migliore da fare con i bambini, loro hanno elaborato le loro idee e le loro proposte, poi hanno lavorato per un po' di tempo con i bambini, noi siamo ritornate a scuola a gennaio con degli incontri mensili da gennaio fino ad aprile e adesso ad aprile finalmente la settimana intensiva, quindi tutto l'orario scolastico coperto da un lavoro teatrale, questo ha fatto in modo che i bambini fossero totalmente immersi nel teatro. Sono una pianista e una compositrice di musica cosiddetta classica di Como, conosco la fatta Morgana e collaboro da circa 6 anni in questi progetti di teatro e teatro musicale nelle scuole. Abbiamo pensato a dare più importanza alla musica nel corso della progettazione del lavoro teatrale con i bambini, tenendo conto della loro formazione musicale e di canto, tenendo conto delle cose che fanno durante l'anno scolastico con la loro insegnante a scuola. Quest'anno le musiche che ascolterete sono per lo più classiche, in omaggio all'educazione, sentirete Vivaldi, sentirete Mozart e ho adattato il più possibile al loro modo di cantare i testi e le musiche per le canzoni. In futuro speriamo di poter allargare l'orizzonte musicale e anche seguendo gli interessi dei bambini che crescono e proporre più generi musicali e fare un teatro che tenga conto della musica non soltanto per aspetto ludico o solo educativo, ma proprio in cui i bambini siano ancora più protagonisti di quello che fanno e di quello che cantano in scena. La cosa molto bella di questa scuola è quella di avere la possibilità di fare teatro, che ovviamente diventa sempre un pochino più difficile in tutte le scuole per i problemi economici che noi ben conosciamo in tutto il nostro paese. La furbizia di questa scuola è stata quella di riuscire a trovare, anche la fortuna, uno sponsor che li aiutasse per poter realizzare proprio tutto questo progetto. Grazie a tutti! Grazie a tutti!